Ma io vedi la bischia amico Ma che bischia Sta fatica la madonna Dimo Sei filmato? Guarda che mi capo Famo quella eh Perchè non la vedete ma adesso C'è il guardone come quello Non lo mangi Non lo mangi Non lo mangi Non lo mangi Vediamo che parte E' scuri filmi Non lo mangiare Non lo mangiare Non lo mangiare Ponte Non si può No 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 Non lo mangiare Lo mangiare Non lo mangiare Non lo mangiare Azzurra Non lo mangiare Menomale Menomale Non lo mangiare Non lo mangiare Non lo mangiare Nel ponte Tornare Mentre Contro. grazie non sai che c'era qualcosa eh però c'è un altro capirei c'è c'è tutto un po' qui io un po' le scarico si stiamo parlando 8 8 8 5 5 5 6 7 Sono due cazzate, mi fanno pure la borsa di ghiaccio, ci può essere fatta una cittura di spazia, poi si può essere ghiaccio di ghiaccio, non tanto questo posto è piano. Per una cosa, se vi riesce a tempo così, magari pure quando entro, non so, quanto differenzia la cintura a te? Quando vengono giù? Ok, se la vendiamo la cintura a te. Mario deve fare niente, Mario, lotti da Mario. Espetta, non ho povera, espetta, non ho povera, loっち dà, poi li andiamo qui, li andiamo qui, i bar venti e i suoi sbagliati. La battuta di Dio non la poteva fare tutti quanti se c'è stata fine cosa uno lo dà dice a Mario. Sì, sì, come serve? No, la scuola è... ...do ciascuno... ...c'è la scuola che fa di un po' ...l'acqua ti chiede l'acqua... ...l'acqua ti aspetta... ...anche se ti chiede l'acqua subito... ...a meno che è spaccare un po' che te le dice... ...se c'è l'acqua... ...se c'è l'acqua... ...se c'è l'acqua... ...come me an, come me an! Come me an, come me an! Come me an ed our, come me an! Come me an ed 파... ...nagmi mi White... ...Buddli e hm... ...l'acqua di MILAZES Sì, 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 sì. Tira Questa volta lo vuotiri sappi che l'ha fatto l'amico tuo Dieci minuti eh Grazie Grazie Ok No, no, no Ok, non ti buttare BOOM Così devi arrivare No, non ti trovo Non ti trovo Non ti trovo Non ti trovo Doppio Sì Su Movi, movi, movi sulle gambe Finta devi essere alzionato Movi Ciao 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 Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.